5 milioni e 90 mila euro al Comune di Napoli per attività che vanno verso la valorizzazione delle imprese sociali femminili per dare forza e dignità alle donne di questa città, della città di Napoli. Consegniamo questa cifra attraverso questa convenzione al Comune di Napoli e siamo certi che con questa iniziativa le donne di questa città, molto spesso martoriate, ghettizzate, in qualche maniera perseguitate, potranno in qualche maniera avere strumenti operativi, finanziari per potersi rilanciare, per poter far partire le proprie attività e per fare promozione sociale.